Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Leven News, settimana numero 9. Oggi, come di consueto, andiamo a vedere un bel po' di roba, sconti, roba gratis, news, aggiornamenti, video settimana. Potete appunto vedere poi tutti i link in descrizione, come al solito, e se volete appunto rimanere aggiornati per non perdervi niente, perché alcune cose sono a tempo limitato, potete iscrivervi su questo canale, così vi arriva anche la notifica. Oltre ovviamente a questa rubrica faccio anche dei tutorial, sempre legati alla musica, all'audio, eccetera, eccetera. Ormai lo sapete, quindi che ve lo dico a fare. Quindi, detto ciò, possiamo iniziare perché sì, ci sono sempre, come al solito, un bel po' di cose da vedere. Quindi, vai! Vi serve un Genestrip ma a poco prezzo? Allora potete usufruire di questo sconto 29,90 anziché 150 per prendere questo Genestrip modulare che offre una serie di, appunto, moduli che potete combinare tra di loro. Avete anche la possibilità di scaricare la demo, se vi piace potete, appunto, subito andare su questo sito per poterlo acquistare a questo prezzo. Non c'è una fine, qua non c'è scritto, però, ecco, se vi interessa, fatelo il prima possibile. Su Audio Plugin Deals, invece, abbiamo un altro bello sconto. Io, come sempre, vi metto gli sconti che reputo essere, diciamo, ottimi anche per voi, che sono anche a poco prezzo. Qui abbiamo 93% di sconto sulla libreria di campioni Aurora, che appunto sono dei cori, quindi campioni corali. Comunque, poi ci sono tutti i dettagli qui dentro, all'interno di questo sito. Qua vi dice anche la versione che vi serve di contact, 29 dollari, fino al 13 di marzo. La Imageline, come sempre ci stupisce, ha collaborato con Native Instruments per offrire una promozione veramente buona. 85% di sconto e vi faccio vedere di cosa si tratta. Vedete, potete rispondere a 75% di sconto su due bundle esclusivi, appunto, da Native Instruments. Questa Complete Collection, ok, per FL Studio, che possiamo prendere invece di 678 euro, a soli 99 euro. Quindi qua abbiamo una serie di co, abbiamo il Massive X, vedete, qua c'è tutto quello che ci fa vedere quello che c'è su interno di questo bundle. Guitar Rig, Ozone 11, perché questo, ovviamente, questo bundle, al suo interno troviamo non solo gli instruments, ma troviamo anche gli FX, quindi anche gli effetti. Effetti di un certo calibro, qua, ovviamente, sono tutti presenti. E invece abbiamo anche questa Complete Series for FL Studio, quindi per FL Studio avete anche quest'altro bundle, che costa di più, ma avete più roba. Infatti, vedete cosa c'è. Sempre lavora per FL Studio, per Windows e per Mac. Poi, cosa vi devo dire? Vi devo dire che, ovviamente, scade il 19 di marzo. Vi serve un sintetizzatore di baseline a poco prezzo. Qui su, appunto, EDSR potete prendere Exit Box versione 2, Exit Box versione 2, a 12,41 euro, fino al 7 di marzo. Appunto, questo è un potente sintetizzatore di linee di basso, baseline, una ricreazione dell'iconico sintetizzatore, in questo caso il basso 303, base 303. E questo è, appunto, il nuovo, la versione 2 di questo Exit Box. Va bene, quindi, se vi interessa, potete, appunto, andare qua su questo sito, che vi lascio in descrizione, per poterlo acquistare. On The Audio Waves ci dà tutti i plugin 29,99. Non tutti insieme, ovviamente, ma possiamo prendere alcuni plugin. Anzi, andiamo a vedere quali sono questi plugin. Poi c'è sempre il fatto che se acquistiamo, se spendiamo 50, ce ne do 1 gradi, se spendiamo 80, ce ne do 1, invece, 2. E qui possiamo, appunto, vedere che è 29,99, 29,99. Quindi se voglio prendere questo, lo prendo a 29,99, eccetera, eccetera. C'è questa, appunto, questa offerta, che non c'è scritto quando torna, ma forse tutta questa settimana. Quindi, se, appunto, volete comprare uno di questi plugin, fatelo, appunto, il prima possibile. E basta. Poi ci sono tutti questi plugin. Potete filtrarli, potete andare a cercare per categoria, eccetera, eccetera. Passiamo adesso alla Native Instruments, anzi, Native Instruments, che in questo caso ci dà un 50% di sconto su una serie di prodotti. Infatti, qua, questo Contat 7, lo possiamo prendere a 149,50 euro, anziché 299. E qui ci sono tutti gli sconti. C'è questo Reverbero, questo 3D Reverb Bundle, c'è questo Mix & Mastering Bundle, che possiamo prendere a 274. Ritorniamo su Audio Plugin Deals per vedere questa offerta, questo Mix Box della IK Multimedia, che ce lo dà a 29,99, anziché 199,99. Fino al 13 di marzo. Ok, questo appunto è, in questo caso, una raccolta di oltre 70 effetti di mixing, di missaggio creativi, T-Rex, Amplitude, Sample Tank, Tank, in un unico plugin. Ok, quindi questo Mix Box, che sicuramente conoscerete, potete prenderlo, appunto, a questo prezzo, che è veramente, appunto, ottimo. PSP Stereo Controller 2, 24,40 euro, fino al 3 di marzo. E' appunto uno strumento di correzione per segnali stereofonici a doppio canale. Quindi se avete un segnale stereo, volete correggerelo al meglio, potete, appunto, prima o provare questo plugin, se fa a caso vostro, e poi prenderlo a questo prezzo. Però, appunto, vi dicevo, fino al 3 di marzo. Faceplant, un bellissimo sintetizzatore, che posso dire che è sottovalutato, perché molti dicono il servo, molti dicono quello, molti dicono l'altro. Ma Faceplant è tanta, tanta roba. Poi, in caso ci faccio un video, ve lo voglio mostrare. Faccio anche una panoramica, eventualmente anche un tutorial completo. E' un, appunto, sintetizzatore molto bello, white table, semi-modulare, perché poi potete combinare una serie di cose per Windows e per Mac, ovviamente. E c'è un'offerta, quindi potete prenderlo da un momento a 99 dollari, fino al 4 di marzo. Anche qua, tra poco scade questa offerta. E potete, appunto, comprarlo. Vediamo se c'è una versione demo, sì, potete, appunto, provarlo, valutarlo e poi, ovviamente, acquistarlo. Il bundle della Cable Guys, ossia lo ShaperBox 3, lo prendiamo a 90 euro. In realtà non è che c'è tutto questo sconto, perché il prezzo poi originale di 100 euro, sono 10 euro di sconto. Se volete, ecco, magari risparmiare questi 10 euro per poi acquistare, che ne so, un altro plugin, potete farlo qui su Plugin Boutique, fino però al 4 di marzo. Poi ci sono anche gli upgrade, se volete aggiornarlo, potete farlo a 69 euro e basta. La WI Production ci fa scaricare gratuitamente questo pacchetto, questa collection, per il suo decimo, mi pare, anniversario. Sì, il suo decimo anniversario, con una selezione di 7 giga, qua chiudo perché non è 7 giga, di suoni gratuiti, che abbracciano vari stili e generi musicali. Abbiamo un mix di preset per dei synth, file MIDI, loop e altro ancora. Qui avete tutti i vari dettagli, avete anche una bella preview di tutto quello che contiene questa collection. 900 file, 7 giga di contenuti, ci sono melodie, ci sono batterie, ci sono effetti, mamma mia, c'è di tutto. Quindi se volete scaricarlo qua, appunto è gratis, quindi cliccate qua e lo scaricate. Ovviamente forse dovete anche registrarvi. E poi, per aver fatto ciò, potete scaricare questa bella collection. Su questo sito potete scaricare gratuitamente 114 preset per il plugin Spire, ok? Per il sintetizzatore Spire. Se avete appunto questo sintetizzatore, potete scaricare questa raccolta di preset per diversi generi, per la musica elettronica. Quindi, appunto, vi lascio il link per poter scaricare questo pacchetto di preset. La Native Instruments ha annunciato uno strumento virtuale per celebrare il lancio del nuovo album di Jacob. Quindi ha fatto un nuovo album e ha dato, in questo caso, appunto, la possibilità di scaricare questa libreria. Esatto, questa libreria che poi va ovviamente sempre inserita dentro il contact. Potete anche utilizzare il contact player, che anch'esso è gratuito. Qua scaricate, vedete, free download e poi scaricate eventualmente anche il contact player, se non ce l'avete. Va bene, appunto, questa libreria, poi potete qua ascoltare, offre il suono di un vero coro, con controlli per diverse articolazioni, armonie e spazio. Quindi, appunto, di cori. Label Sampler ci dà, appunto, un pacchetto di suoni, di varie etichette, che possiamo scaricare gratuitamente, perché siamo qua nella sezione Gradis. Qui cosa abbiamo? Abbiamo questo, sempre a periodo di tempo limitato, il pacchetto include i campioni di, in questo caso, Daft Punk e altri tipi di artisti. Qua vedete che 0€, quindi potete scaricare questo zip, sono 30 file. Però, ecco, se vi interessa, cioè, se volete scaricare tanto per provarlo, potete farlo all'interno di Loopmasters. Soul Squash è un compressore, in questo caso, della Tone Empire. Lo si scarica direttamente su Plugin Boutique. Va bene, è disponibile, potete scaricarlo gratuitamente fino, però, al 3 di marzo. Poi costerà 39, qua mi dice 36,60€. Va bene. Plugin Alliance ha introdotto un nuovo plugin, che si chiama ADPTR, quello dico così piano e piano, altrimenti mi impappino. E questo è un plugin progettato, in questo caso, per incorporare hardware di missaggio di fascia alta, offrendo strumenti di elaborazione dinamica. Quindi, praticamente, è un multibanda, cioè, abbiamo tre tipi di effetti che operano, che, appunto, intervengono su diverse bande, che sono, mi pare, tre. Quindi, è un multibanda con la possibilità di mettere degli effetti. Appunto, combina facilmente più generatori di armoniche, algoritmi di compressione, quindi possiamo aggiungere armoniche, possiamo anche comprimere singolarmente ogni banda. E poi possiamo, ecco, in questo caso, se non mi sbaglio, c'è quello per l'immagine stereo, se non erro. Comunque, ci rivediamo il trailer, così capiamo meglio anche di cosa si tratta. Ah, ok, è vero. Sì, stereo, quello centrale per le armoniche, per aggiungere armoniche, poi c'è il compressore. E poi sotto, vediamo che si può dividere, si può splittare per frequenze basse, frequenze medie e frequenze alte. Ecco, in un semplice plug-in. Se hai modi di comprimere, ah, ecco, anche la modalità slam. Per armoniche. Per l'immagine stereo. Ok, avete quattro... Aspetta, metto pausa. Avete quattorici giorni di tempo per provare, appunto, la versione trial, con tutte le funzionalità complete. La Excite Audio ha, appunto, introdotto questo nuovo strumento virtuale, progettato per consentirvi di aggiungere ritmo alle proprie tracce. Con potenti break di batteria, quindi per aggiungere break o anche fills, vedete, drum, loops, per creare delle cose dinamiche, per creare groove. Questo plug-in può aiutarvi, perché, vedete come si presenta, potete andare, in questo caso mi pare, di importare dei campioni e lui li va, in questo caso, anche a mixare, li va a fondere, appunto, insieme. Andiamo a vedere qui sotto il prezzo di questo plug-in al momento di 19 dollari, anzi anche euro, non costa tanto, devo dire. Poi c'è anche il pacchetto che, invece, comprende anche un plug-in per le voci, che costa solo 179 euro. Andiamo a vedere se anche c'è un video. Sì, sicuramente c'è. Ed ecco qua, come possiamo, ecco, possiamo combinare queste serie di cubi, queste serie di quadrati, che poi ci faranno sentire, appunto, la batteria in modo diverso. Perché, vedete, ecco, possiamo prendere tutti i campioni, possiamo prendere anche dei loop, così, finalmente, invece di utilizzare il loop così com'è, lo possiamo, in questo caso, combinare, miscelare e fare qualcosa di originale, invece di sempre prenderlo, appunto, come l'abbiamo acquistato. Vedete, ci sono, appunto, diverse modalità. Lui ci va a prendere le varie frasi per poterli produrre anche in modo diverso. Andiamo qua un esempio. Ecco. Adoro questi, questi, questi break, questi loop. E poi qua possiamo editare tutto al meglio, vedete? Qua ci sono tutte le varie caratteristiche, io lo proverei se fossi in voi per vedere se fa al caso vostro. Capitan, everybody wants a, vai, vai! Acustica, vi ho introdotto il rilascio di una nuova suite di plug-in della serie Acqua, che presenta una selezione curata di limitatori hardware di alta qualità. Si chiama questa, questa unità si chiama Lace, è un limitatore avanzato e true pick, progettato per elevare i livelli di volume senza compromettere la qualità del suono. Questo strumento garantisce una trasparenza eccezionale, preservando i transienti e le basse frequenze dell'audio. Quindi, se volete proprio clippare come non mai, questo plug-in potrebbe aiutarvi, perché comunque va a non rovinare troppo anche i transienti. Qua avete sicuramente la prova gratuita che potete scaricare. Il prezzo di lancio è di 89€, però fino al 25 di marzo, poi ritorna a costare 189€, cioè poi costa 189€. Vediamoci questa demo, dai! Hello everybody, this is Chris from Acoustica Audio, and today we're introducing the key to maximale loudness and presence on your tracks. Lace, a revolutionary collection of sampled limiters, designed to address a critical challenge in mixing and mastering, integrating digital limiting and clipping without sacrificing sound quality. In the world of audio processing, many true peak limiters struggle with managing transients, often resulting in attenuation or distortion. Moreover, these limiters can negatively impact low frequencies, compromising the richness and warmth of the mix, leading to tracks that sound overly compressed or bright. Artur ha introdotto questa nuova tastiera della serie KeyLab, che mira a stabilire un nuovo standard per il controllo MIDI multi-ottava essenziale. Se volete qualcosa di più, diciamo, tra virgolette professionale, ma anche come appunto vi ho descritto prima, le caratteristiche che vi ho descritto poco fa, potete, in questo caso, dare un occhio più nel dettaglio di questa nuova tastiera e eventualmente scaricare la demo così la provata, no scherzo, qua non potete farlo, però potete appunto acquistarla direttamente. 399 è il prezzo al momento, mi pare, quello di lancio. Questa è dotata di nuove anche funzionalità creative, modalità scale, poi abbiamo modalità corde, arpeggiatori, integrata, c'è integrata la Dove. Vediamo se vi dà anche, in questo caso, un software incluso. Probabilmente vi darà anche Ableton Live, no, la versione Lite, voglio dire, vediamo subito, esatto, Ableton Lite, poi vi dà anche Analog Lab Pro, anche la versione Pro, e poi anche una serie di altre cose al suo interno, quindi vi dà un bel po' di cose. Poi qua ci sono tutte le varie sezioni, le risorse. 11 Step questa settimana ha pubblicato un solo video purtroppo, perché è stato molto impegnato, ultimamente sta facendo diverse lezioni, diverse consulenze, quindi spero che potrà tornare presto, a parte di scherzi. Questa settimana appunto ha pubblicato soltanto un video che si chiama Tapestop, dove vi ho lasciato, in questo caso, un rack per poter creare un effetto di Tapestop. E poi, in questo caso, basta, sì, poi ci sono anche altri consigli che, come al solito, vi ho detto in quel video, tipo anche altre tecniche per fare questo Tapestop all'interno di Ableton. Finish! Questo è tutto per quanto riguarda questa nona settimana di, appunto, Live News. Fatemi sapere, mi raccomando, la vostra. Voglio sapere adesso cosa ne pensate di queste novità, di queste robe gratis, di questi sconti, se c'è qualcosa che acquisterete, se c'è qualcosa che scaricherete. Fatemi sapere, come al solito, la vostra qui sotto nei commenti. Va bene? Io mi pare di aver detto tutto, sì, ok? Quindi vi auguro una buona ordinazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao! Ciao!